già con gli altri in possesso della palla dall'altra parte attenzione buona l'apertura cercavano una triangolazione che non riesce poi un suggerimento meraviglioso doveva solo battere verso la porta qui l'attaccante non è stato lesto nel farlo nulla di fatto si rimane solo 0 a 0 appoggio sul numero 6 che finta la manovra poi suggerisce ancora molto bene per lo stesso giocatore che si era centrato buono il l'intervento del portiere portiere in maglia fucs in maglia arancio maglia rosa non è molto chiaro il colore arancione chissà comunque battuto questo calcio d'angolo per poco imparato non andava a realizzare in avanti imparato allarga sulla destra su bellucci avanti il numero 11 si gira con la mano sinistra mette in calcio d'angolo il portiere turnea quelli dei fratelloni il cambio di passo lungo il versante sinistro si libera di un giocatore il tiro leggermente deviato dal portiere sarà calcio d'angolo dall'altra parte ora riceve imparato il tiro la porta è sguarnita l'intervento difensivo ancora un batti ribatti lì davanti la porta alla fine turnea grande intervento voi fratelloni chiaramente una palla un po troppo lunga per essere agganciato dai citrulli il tiro incredibile traversa qui palo anzi scusate più che altro vicinissimi comunque al vantaggio tensa dei fratelloni si rimane sullo 0 0 al ventesimo partita comunque interessante per essere quella di calcio di un calcio a 5 adesso è da solo a tu per tu col portiere che la tocca però non riesce a respingerla e la palla che si insacca per l'1 a 0 al ventesimo minuto di gioco occhio la porta avanti burdocko ancora imparato sulla destra il tiro no un passaggio dentro e con un facile tapin va a realizzare il 2 a 0 burdocko al 22esimo imparato che poi sbaglia l'appoggio permette ai bianchi di ripartire con il numero 8 lungo al versante sinistro palla dentro tiro gol stavolta non può nulla qui il portiere e si rifà sotto la squadra dei fratelloni il lato sinistro palla numero 10 che calcia stavolta fin di palo di non nulla vicino al pareggio i fratelloni ora imparato mette dentro e va a realizzare murdocko per il 3 a 1 dell'ha imparato case fallo ne approfittano subito ragazzi in maglia nera venicolo il tiro buono ancora l'intervento del portiere imparato cambio passo accelerazione lungo il versante sinistro palla messa dentro palo colpito da venicolo ed ecco il triplice fischio arbitrale che pone fine al match finisce 3 a 1 per i fratelli per scusate l'ha imparato case sulla squadra dei fratelloni grazie grazie